buongiorno a tutti mi chiamo roberto ieri rinella vengo da bergamo a settembre sono venuto qua graham clinic ho messo le protesi definitive e all'incirca dopo sei sette mesi sono ritornato per fare un controllo per vedere se era tutto a posto anche se io non ho avuto alcun problema in questi sei mesi quindi sapevo già che era tutto a posto però ovviamente sono venuto a controllo ho fatto la panoramica ho fatto la visita con il dottore e ho fatto anche una pulizia dei denti mi hanno confermato quello che già sapevo cioè che non c'era nessun problema e domani me ne ritorno in italia io in questi sei mesi non ho avuto alcun fastidio non ho avuto nessun problema nel senso clinico del termine è una sensazione molto piacevole perché ovviamente si ricomincia a mangiare si ricomincia a vivere e devo dire che oltre diciamo il fatto della masticazione ho notato pure che mi sono risolto un sacco di problemi io mi svegliavo certe mattine con due dei dolori dietro dietro la schiena non riuscivo proprio ad alzarmi dal letto quindi addirittura sono arrivato al punto di fare dei cicli di punture per riuscire a sbloccare questa situazione ma io da quando ho messo i denti non ho nessun nessun tipo di problema io sono soddisfattissimo